prosegue la mia escursione siamo ad ovest della via dei pozzi qui è tutto un terreno è pieno sembra piccolo tutti apprezzamenti non c'era un metro di terra da costruire è chiaro cucino prima del prosciugamento tutta l'acqua questi terreni molto molto certi questo qua è un ampio spazio di terreno e qua lauriniti di cose anche c'è un mezzo agregoli ecco lauriniti di cose con i cavalli con i mari e asini anche con i buoi però l'animale migliore qual è il cavallo anzi in montagna usano più spesso l'asino perché l'asino e l'asino lo so mare si mangia tutto è rustico l'asino si mangia pure i cardi con le spegne tu bello a proposito ho fatto quel percorso questo sarebbe opportuno mappare questo intero territorio questo è un percorso inedito guardate che bello interozzamenti questo è piccolare poi ci siamo di qua guarda guarda bellissimo eh guardate ancora un ha al meglio 2.000 anni ecco qui salgo qui sopra quando siamo 1.49